In Italia il ritardo sui decreti attuativi sta bloccando 17 miliardi, non so se lo sapevate, ma parliamo di risorse veramente importanti bloccate perché mancano 521 decreti attuativi. In pratica l'82,4% di attuazioni richieste dal governo Meloni deve ancora essere pubblicato. Questo rallentamento nella procedura di approvazione dei decreti attuativi sta causando un effetto domino che colpisce in prima persona le imprese e gli investimenti e può causare un rallentamento della crescita economica del Paese. Se sul PNRR infatti non ci sono ancora certezze di incassare i soldi, i 17 miliardi sono invece disponibili ma fermi, per colpa della burocrazia lenta. Le risorse infatti messe a disposizione con atti aventi forza di legge necessitano di ulteriori indicazioni per poter essere erogate ai soggetti beneficiari. Per intenderci è come se la legge senza provvedimenti attuativi.